Ciao a tutti, oggi parliamo anche di tutti i difetti dell'acquario, sapete che sono acquario quindi devo ammettere i miei difetti in poche parole. Criticare, è vero, mi ci rivedo anch'io, in alcuni no però, devo dire in criticare, alle volte sì. Poi impulsività, anche qui mi ci rivedo molto, siamo segni troppo impulsivi forse. Irrazionali, ovvero abbiamo sempre tanti pensieri illogici, forse anche a volte non realizzabili. E idealismo spinto all'eccesso, anche qui siamo troppo idealisti, quindi questi sono tutti i nostri difetti. Però se posso mettermi una buona parola sono anche buona. Niente, questo è tutto, ciao!